Siglato all'Università degli Studi di Teramo il contratto per dare il via al progetto preliminare, definitivo ed esecutivo per i lavori di realizzazione della nuova cittadella della cultura da realizzarsi nell'ex manicomio. Una riqualificazione importante per l'Università ma soprattutto per la città terramana che vedrà la ristrutturazione dell'imponente complesso rimasto abbandonato da oramai molti anni. La firma che affida la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva che nell'arco di 150 giorni restituirà il progetto definitivo che poi è la base per l'affidamento dei lavori che posso dire con quasi assoluta certezza saranno affidati entro l'anno. È un punto di partenza nuovo, nel senso che inizia la progettazione vera e propria ma è anche un punto di arrivo di tutto un lavoro cominciato da ben oltre un anno che ha portato ad intercettare i fondi Masterplan, ha portato a sviluppare quest'idea del recupero funzionale dell'ex manicomio, quindi un elemento fondamentale della città da parte della governance precedente. Un ringraziamento va ovviamente al Rettore Merito, quindi oggi siamo qui anche per tutto il lavoro che è stato fatto. Tutta la ristrutturazione, il recupero funzionale si inserisce nel cuore pulsante della città, anzi in qualche modo anche proprio all'ingresso ovest della città. Quindi un ribadisco ed enfatizzo questo aspetto, non solo una nuova sede per l'università, ovviamente ci sarà il Dams che verrà collocato in quegli spazi, ma un nuovo luogo di respiro culturale per la città e oserei dire anche per il rilancio economico della città. Grazie.